E neanche sognarti Note Pulite Music Con il patrocinio del comune di Laureana di Borrello in collaborazione con CRT Network Mil Media e Fly Service presenta in occasione della quinta edizione del Laureana Music Festival Note Pulite Summer con la partecipazione straordinaria di Franco Neri direttamente da Zelig una serata di musica, cultura e spettacolo con tanti ospiti Note Pulite Summer La nostra estate con te Presenta la serata splendida Elisabetta Gulli Buonasera Ma che bel pubblico Quando sei ripreso mi guardo e fa Franco Ho trovato lavoro Ma non a me, a mio cugino Mimmo E quando ci hanno portato il pomodoro sotto casa Tutto rosso era La piazza ha cambiato colore E noi l'abbiamo chiamata Piazza Rossa Putin ha scritto a mia madre e ci ha detto Guarda un pomodoro tu pago io Ma che non a me, a mio cugino Mimmo Ma che non è la mia cugino Mimmo Ma che non a me, a mio cugino Mimmo ma che non a me, a PlayStation Ma che non a me, a mio cugino Mimmo Grazie per la visione!